Un muro solo non bastava. L'Ungheria lunedì ha iniziato a costruire una seconda barriera anti-immigrati al confine con la Serbia. Quello del contrasto all'immigrazione è il cavallo di battaglia del governo di Orbán in vista delle elezioni del 2018. Un portavoce del governo in missione a Bruxelles ha spiegato a Euronews che la struttura servirà a prevenire una nuova ondata di arrivi previsti in primavera ed in estate. È dovuta a tutto ciò che sta accadendo ai confini europei ed ovviamente anche all'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. Ma è dovuta più che altro a fatto che sono circa 80.000 le persone che stanno ancora percorrendo la rotta dei Balcani occidentali. La primavera sta arrivando e secondo stime tedesche ci sono almeno 6,5 milioni di persone in attesa di entrare nell'Unione Europea. La nuova recinzione si aggiungerà al muro di filo spinato erato nel 2015 per impedire l'accesso nel paese di centinaia di migliaia di migranti in fuga soprattutto dalla Siria. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano le condizioni disumane in cui vengono lasciati i migranti che bustano le porte d'Europa.